vi siete mai chiesti cosa vuol dire essere artista o meglio vi siete mai chiesti cosa vuol dire fare l'animatore la risposta è sulle vostre facce 24 ore al giorno in mezzo a bella gente ridere scherzare giocare e chissà quante storie d'amore hanno visto queste quattro mura eppure essere artista vuol dire ridere quando hai voglia di piangere scherzare obbligatoriamente quando sei triste per me un animatore è una persona che vive il suo tempo sopra una nuvoletta creata apposta per lui ogni tanto torna giù con stata la dura realtà e via quasi per magia torna ai suoi sogni dopo mille stagioni decidi che è l'ultima torni a casa cerchi di vivere la tua vita normale ed è proprio lì che ti accorgi che basta una chiamata per scoprire che la valigia non è mai stata svuotata che esiste sempre un amico per accompagnarti in stazione e che il treno per la tua felicità parte tra meno di un'ora da piccolo mi sedevo spesso sul cilio della strada e ascoltavo le storie che aveva da raccontare desideravo una bicicletta con i raggi cromati una casa tutta bianca ma soprattutto desideravo attraversarla per la strada per scoprire chissà quali altri segreti il mondo mi nascondeva oggi a distanza di anni mi siedo ancora su quello stesso freddo cilio ho avuto la bicicletta con i raggi cromati una casa dai muri bianchi ma fra me e me penso in fondo si sta meglio qui la gente spesso borbotta più diventi vecchio più diventi sbanito non è vero io sono sempre stato sbanito ogni tanto verso sera ti voglio la malinconia e se ti resta ancora qualche spicciolo nel telefono pensi subito di chiamare a casa non poni il numero e spesso ti risponde una voce fredda e metallica potente da lei chiamato non è al momento raggiungibile eccetera 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 o la voce di tua madre già mia madre mia madre ha passato la vita a darmi il meglio le migliori scuole l'educazione superiore università ed io l'ho ringraziata con un semplice ciao ma io vado io vado a vivere tra la gente una vita di sogni infranta nell'istante di poche insulze parole ho da chiedervi un favore se vi capita di incontrare delle strane persone racchiuse in tute colorate con un sorriso stampato sul viso non cambiatele amatele criticatele ma vi prego non cambiatele se fate ciò neghereste al mondo l'ultima categoria che il mondo può vantare di sognatori ad occhi aperti anch'io nel mio piccolo mi sono cimentato nel forgiare un aggettivo e dopo tanto pensare l'unico che mi è venuto in mente è artisti grazie 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 grazie